ammetto che per quanto riguarda il diaframma pelvico io non sono un grande esperto nel senso che esula un po da quelle che sono le mie competenze non a caso all'interno del video del videocorso avete visto che c'è la mia compagna debora che si occupa in maniera specifica di quel settore quello che ti posso dire è che ovviamente lavorano il diaframma toracico il diaframma pelvico lavorano in maniera sincrona ma apposta opposta cioè quando io vado in espirazione quindi il diaframma lo faccio in maniera scusate molto volgare molto semplice va in contrazione centrica verso quindi si distende va verso l'alto il diaframma pelvico va in contrazione concentrica e quindi si porta verso il basso quindi è una sincronia asimmetrica questo uno dei motivi per cui nelle nelle mamme in gravidanza si insegna appunto l'espirazione che aiuta a rinforzare l'effetto sul diaframma pelvico in realtà la domanda poi che tu mi ponevi era qual è la tredunion tra diaframma pelvico toracico e trasverso allora diciamo che c'è una buona come dire collaborazione tra questi distretti muscolari grazie mille e questa collaborazione è data dal fatto che quando noi andiamo in espirazione attiviamo anche il trasverso il trasverso è un uno dei quattro addominali è un addominale profondo ed è un muscolo contenitivo delle delle viscere ed è un muscolo a modi corsetto che dal settore frontale anteriore si distende fino a posteriormente e forma una specie di guaina uno cuscinetto protettivo ed è il muscolo incaricato a dare stabilità prevenzione della lombalgia e vi dicendo facendo un esempio molto pratico se voi vi infilate le mani a livello pubico quindi se andate a toccare la vostra cresta iliaca rientrate di quattro dita scivolate verso il basso e andate verso la vi pubica quindi la zona inguinale circa fate un'espirazione profonda se noi andiamo a fare un'espirazione lenta e profonda avvertiamo quella parete con l'inizio di parete inguinale che si va a irrigidire sotto i nostri polpastrelli quella la fascia terminale del trasverso e da lì si apre un mondo di esercizi e quindi è chiaro che nelle ispirazioni vado a sollevare il diaframma si abbassa il diaframma pelvico vado in contrazione del trasverso il trasverso oltre a essere un muscolo ispiratorio e anche si attiva attraverso la rotazione quindi un'espirazione con la rotazione attiva mi attiva questo muscolo volete facciamo un esempio pratico così magari può interessare perché questo è un po alla base anche degli allenamenti che faccio con alcuni atleti d'alto livello il potenziamento del trasverso da dove parto anche qui veramente molto molto semplice andare a portare le mani a livello del della zona inguinale come vi ho appena detto in posizione eretta vado in ispirazione poi sempre posizione retta in questo caso penso che la maggior parte di noi è seduta quindi va benissimo invito l'atleta ma anche il paziente diciamo la persona normale ad ancorare il bacino in modo tale da non muovere da non avere nessuna hip rotation nessuna rotazione delle anche e andare a fare una rotazione del tronco e del busto in ispirazione quindi cosa faccio prendo aria espiro andando a ultimare l'ispirazione incomincio a ruotare sul mio fianco per esempio destro ruotando sul mio fianco destro sento tirare passatemi il termine questo è quello che mi viene quello che viene percepito e riferito dai pazienti avverto una tensione nel settore inguinale laterale sinistro con la contaminazione dell'ilopsoas anche inspiro ritorno vado in ispirazione inizio a ruotare ruoto 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 sullo versante sul fianco sinistro avverto la parte bassa di destra questo è un altro esercizio molto molto semplice che nelle nelle gestanti a mio avviso prima della gestazione cioè proprio da un proprio un percorso da seguire aiuta tantissimo in quella che poi sarà la spinta eruttiva che non è proprio eruttiva però nella spinta ehm pelvica per eh per il nascitore